Sì, non è una novità questa cosa, che servono i migranti per pagarci le pensioni, che grazie ai migranti si riesce a mantenere il paese, i migranti sono solo loro che fanno figli, i migranti fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare, sappiamo benissimo che non è vero, perché poi io conosco tante persone che fanno lavori anche umili, ma il discorso è che è normale che se siamo in un mercato in cui il migrante si fa pagare 3 euro all'ora per raccogliere l'uva o i pomodori e l'italiano 3 euro all'ora non ci va, anche perché mi sembra normale che lo schiavismo non debba più esistere. L'italiano purtroppo ci va, lei lo sa, l'italiano ci va, non ci vorrebbe andare, ma ci va e come? Allora venite nella mia direzione, gli italiani i lavori umili li fanno, non è vero che gli italiani determinati lavori non vengono più fatti dagli italiani, è normale che in una logica di mercato l'immigrato, perché succede così in tanti settori, si fa pagare o è disponibile a fare lo stesso lavoro per molto meno.